San Paolo Marzaduri Gian Paolo è sposato con Liliana, appartiene alla parrocchia e alla zona pastorale di San Lazzaro di Savena. Barbara Castaldini, appartiene alla parrocchia e alla zona pastorale di San Lazzaro di Savena. Dicevi il vassoglio con il pane per la celebrazione dell'Eucharistia e la tua vita sia degna del servizio al ministero alla mensa del Signore e della Chiesa. Dicevi il vassoglio con il pane per la celebrazione dell'Eucharistia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa. Possiamo anche fargliela sentire che siamo contenti. Dio, nella mensa che tu ci prepari ci riconcili con te e tra noi e chiami gli uomini all'alleanza con te. Guarda alla disperazione degli affamati di questa terra, all'angoscia dei popoli in guerra, alla sofferenza dei malati, alla fragilità dei deboli, allo smarrimento dei profughi. Preghiamo. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Date a tutti l'amore e la benedizione del Signore. Andate in pace. Grazie. Grazie a tutti.